Cercavo un arredo da esterno, però vedevo un po' ripetuto sempre gli stessi modelli e non trovavo niente che attirasse la mia attenzione. Io cercavo qualcosa di molto particolare, molto innovativo e appena sono capitata nel sito Berto, nella parte ovviamente outdoor che è pubblicizzata in modo particolare in questo periodo e diciamo che questa linea ha catturato subito la mia attenzione quindi non c'è stato bisogno di tante parole, solo semplicemente avevo la necessità di vedere con mano quello che avevo già provato e trovato nel sito. Ho guardato un po' le misure, ovviamente, i materiali e questo è stato quanto. In realtà poi il tutto si è concretizzato molto velocemente visto anche le offerte che ci sono in questo periodo e il tempo di toccare con mano il prodotto, decidere un po' quelli che sono che i materiali, i colori ed eccoci qua come clienti Berto, devo dire, per la prima volta e quindi speriamo di continuare.